Fabrizio Ravanelli a Termoli, credo sia la seconda volta per te in questa manifestazione così bella, splendida ci torni con piacere, il Molise ti accoglie a braccia aperte Sì, devo riconoscere che la gente del Molise e soprattutto di Termoli mi hanno sempre accolto in maniera eccezionale anche questa volta sono stati straordinari e quindi vengo sempre con grande piacere e con grande affetto le ringrazio tantissimo, ringrazio Bruno della sua accoglienza, l'organizzatore ringrazio Parpiglia che ha giocato anche con me ad Avellino Tu sei l'esempio dello sport italiano, dopo il calcio hai continuato, ti diverti con il ciclismo questo veramente è un segnale molto importante Sì, credo che lo sport sia importante anche per vivere la vita nel migliore modo possibile quindi credo che anche la bicicletta ti fa capire quanto sia bella la vita, lo sport e soprattutto per poter divertirsi nella vita c'è solo un modo, fare i sacrifici e solo così ci si può divertire E questo potrebbe essere anche un monito per i ragazzi e per invogliarli ad avvicinarsi allo sport Assolutamente sì, dico ai ragazzi di oggi che in questo momento hanno dei grossi problemi anche per trovare lavoro magari nel tempo libero di lettarsi nello sport, poter fare qualche organizzazione, stare tutti uniti e non essere nulla facenti nei bar o andando in giro ma divertirsi perché lo sport è qualcosa di fondamentale per poter riuscire a crescere con dei principi sani Grazie